vai, sotto e destra 3, in sinistra 3, 70, destra 4, in sinistra 4, poi in sinistra 3, in destra 3, in sinistra 3, destra 2, forzanza, sei al centro, in sinistra 2, molto stretta, intornante destra sinistra 3, chiude, in destra 5, e in sinistra 6, sotto, in destra 5, e salto, poi in sinistra 4, in destra 3, intornante sinistra, sinistra 6, 40, attraverso acqua, poi in destra 2, in sinistra 2, e in destra 4, apre, 60 tornante destra, e tornante sinistra, 60, sotto e salto, destra 3, e 40, poi in sinistra 3, in destra 3, sinistra 3, intornante destra, sinistra 3, diventa sinistra 4, e 60, destra 3, 40, tornante sinistra, 40, poi in sinistra 3, poi in sinistra 3, intornante destra, poi in sinistra 3, apre, in destra 4, soffa, attraverso acqua, tornante sinistra, tornante destra, e in sinistra 4, destra 4, e in sinistra 4, e in sinistra 4, chiude, 60, salto, e in sinistra 2, forza, in destra 5, sinistra 3, 40, poi in sinistra 2, sinistra 2, in sinistra 2, in sinistra 3, attraverso acqua, poi in sinistra 3, chiude, sinistra 5, lunga, in sinistra 4, sinistra 3, in sinistra 4, e 40, sinistra 3, in sinistra 3, chiude, poi in sinistra 4, in sinistra 6, vai al centro, tornante sinistra, apre, poi in sinistra 6, intornante destra, sinistra 5, chiude, intornante sinistra, apri, vai al centro, poi in sinistra 2, molto stretta, e 60, sinistra 5, barriera all'esterno, poi in sinistra, tornante destra, ehi, stai a dentro, sinistra 2, lunga, chiude, destra 3, apre, e destra 3, chiude, poi in sinistra 4, e tornante destra, sinistra 2, 40, soppa, poi in sinistra 4, intornante destra, tornante sinistra, e 40, sinistra 3, in destra 3, chiude, poi in sinistra 4, in destra 5, e tornante sinistra, tornante destra, poi in sinistra 3, in destra 3, scopa, sinistra 3, taglia, nitica in destra, e destra 4, sinistra 3, apre, in destra 4, in sinistra 2, in destra 3, sinistra 5, e tornante sinistra, destra 3, in sinistra 3 poi destra 2, lunga sinistra 3, in destra 5 destra 3 poi sinistra 3, attraverso questa movita pronta sinistra 3, in destra 4 poi sinistra 6, in destra 5 e sinistra 6 destra 6, in sinistra 6, lunga poi sinistra 2, chiude, 60 attenzione, marcapiede, attraverso cancello e sinistra 3, in destra 3, 60 destra 3 e destra 3, dai al centro, 60 poi sinistra 3 e sinistra 3, 60 sinistra 3 e destra 3 poi sinistra 3, in sinistra 3 poi destra 3 e destra 3, apri sinistra 6, attraverso cancello in destra 6 e sinistra 5, intornante destra sinistra 6, in destra 5 e sinistra 5 in destra 5 poi sinistra 6 e tornante sinistra destra 6, in sinistra 5 e destra 6, 40 sinistra 4, in destra 4, 60 sinistra 6, in sinistra 6, 40 poi destra 4 e tornante sinistra destra 3 e sinistra 4 poi destra 5, in sinistra 4 e destra 4 e tornante sinistra tornante sinistra 5, in destra 5 e destra 5, in destra 4 e 40 tornante sinistra, tra 4 Grazie a tutti.